Assessore Diodati, proseguono i lavori allo stadio adriatico così come era stato programmato dall'amministrazione comunale ma ci sono altre novità perché a breve vi incontrerete con il nuovo soprintendente della regione Abruzzo. Sì, proseguono i lavori di risistemazione e di messa a norma dello stadio per renderlo pronto per l'inizio del campionato di Serie A. Così come fra qualche giorno inizieranno i lavori di rizzollamento anche del manto erboso dello stadio adriatico così come ci chiede la Lega Nazionale di Serie A per rendere le partite le più belle possibili. Dopodiché abbiamo ricevuto dalla sovrintendenza la risposta al nostro quesito, al nostro ricorso. La sovrintendenza se da un punto di vista ci dice che il ricorso non può essere accettato dall'altro punto di vista ci dice che siccome si rendono conto anche loro delle difficoltà che oggi si attraversano all'interno delle amministrazioni per la gestione delle strutture pubbliche e quindi per le grandi difficoltà economiche ci ha aperto una strada con la sovrintendenza regionale nel senso che ci ha fondamentalmente esortato a sederci con la sovrintendenza regionale con la quale sicuramente riusciremo a trovare un accordo adeguato per fare in modo che riusciamo a fare i lavori per lo stadio adriatico necessari perché questa struttura possa essere data in gestione all'esterno. Abbiamo già preso contatto con il sovrintendente regionale, con il nuovo sovrintendente regionale con il quale ci incontreremo con il sindaco e i dirigenti dell'ufficio sport entro questa settimana per stabilire quali sono i margini di manovra e quindi stabilire un cronoprogramma dopo con la Lega di Serie B che è quella che ci sta preparando il progetto.